buongiorno a tutti nella pillola di oggi parliamo del tiger nut il tiger nut questa piccola nocciolina è in realtà un tubero che cresce sottoterra in maniera molto simile all'arachide può essere considerata una validissima esca da carpe ed utilizzata come alternativa per le boili tant'è che io conosco molti validi carpisti che hanno scelto di non utilizzare più le palline ma di affidare quasi tutte le loro sessioni al tiger nut perché conoscendone bene le potenzialità i limiti e soprattutto capendo tecnicamente come fare un'efficace azione di pre baiting è effettivamente vero che queste noccioline danno dei risultati eccezionali si tratta di un'esca estremamente resistente agli attacchi dei piccoli pesci che quindi ha una durata in alcuni casi certamente superiore alla boili a cosa è dovuta l'attrattività del tiger nut diciamo che sostanzialmente il gusto del tiger nut piace tantissimo le carpe che quando se ne alimentano ne diventano proprio particolarmente ghiotte ingorde e da un punto di vista e quindi questa è quella che definiremo attrazione secondaria un gusto molto appetito l'attrazione primaria si basa sostanzialmente sugli zuccheri che si trasformano dopo la cottura e fermentazione della nocciolina creando quel gel quella gelatina a cui tutti siamo ormai abituati a suoi fatti che è è parzialmente idrosolubile e quindi riesce a creare un'attrazione sia nei dintorni dell'esca stessa che in maniera molto marcata sul fondale in prossimità del terminale dell'innesco contrariamente a quanto credono molti la tiger nut non è un'esca molto nutriente basta confrontarne i valori nutrizionali con il soia o con l'arachide stessa per capire che effettivamente in termini nutritivi c'è di meglio e non è nemmeno particolarmente digeribile perché come abbiamo tutti ben presente se abbiamo pasturato e pescato quel tiger nut le carpe tendono a defecarle praticamente ancora intere oppure comunque sbriciolate ma non digerite questo perché è sostanzialmente molto fibroso e dura e di conseguenza non viene assimilata tutta all'interno del processo intestinale di digestione questo è un vantaggio svantaggio indiretto perché perché defecandola la carpa la arricchisce ulteriormente di attrazione mescolandola con il resto dei residui di ciò che ha mangiato e quindi la redistribuisce sul territorio sul fondale rendendola ancora disponibile e anche più attrattiva di prima per le altre carpe che così continuano a cibarsene e velocemente ne diventano ghiotte e ingorde è anche un difetto perché il rischio pasturando con tiger nut intere è che la nostra pasturazione piuttosto concentrata venga sparpagliata in tutto il lago che in senso assoluto e a lungo termine è interessante perché le carpe del lago conosceranno tutto il tiger nut ma se noi stiamo pasturando in un punto specifico e il nostro nutrimento la nostra pasturazione viene spostata 300 metri più in là capite benissimo che questa cosa un po danneggia la nostra azione di pasturazione questo è il motivo per cui il successo dell'utilizzo del tiger nut è rappresentato da come pasturiamo noi dovremo preparare delle belle tiger nut grosse intere per quello che riguarda gli inneschi e utilizzare lo sbriciolato le tiger nut più piccole per preparare la pasturazione un modo innovativo che voglio darvi per per preparare le tiger è di lasciarle in ammollo nel latte di tiger nut il latte di tiger nut non è l'estratto che siete abituati a trovare per realizzare le boiles quello per capirci piuttosto mieloso e concentrato il latte di tiger nut è proprio una bevanda che si trova in brick ricavata dalla spremitura della tiger nut allora lasciarle in ammollo nel loro latte e poi farle bollire e fermentare nel loro latte enfatizza ulteriormente la capacità attrattiva di questi piccoli tuberi in mancanza del latte di tiger nut che si trova ma non nei supermercati italiani con facilità possiamo usare il latte di soia e tutti quei latti ricavati dai cereali latte di riso eccetera che invece troviamo comodamente nel supermercato sotto casa quindi 24 ore di ammollo un paio d'ore di bollitura senza nessun additivo e abbiamo capito che faremo bollire un poche di tiger grosse intere ci serviranno come indeschi il grosso due terzi sbriciolato di tiger e piccole tiger nut dopo averle fatte bollire lasceremo riposare almeno un altro giorno o due finché vedremo formarsi quella gelatina particolarmente attrattiva giunti a questo punto io consiglio di congelare di non lasciare lì a fermentare in senso assoluto oppure potremo addizionare pesantemente di zucchero e di conseguenza stabilizzare grazie allo zucchero come nelle marmellate e far sì che la fase di rancidimento non prosegua ulteriormente nella preparazione del posto durante la pasturazione il mio consiglio è di miscelare questo sbriciolato fermentato di tiger col suo bel gel miscelarlo con del pane da pastura pane belga e con della farina di tiger quindi creare un metodo da fondo fatto con il pane il fioccato di mais la farina di tiger impastare con dentro questi pezzettoni di tiger nut e quindi realizzare delle palle di pastura consistenti diciamo dimensione di un arancio con cui portare avanti anche un'azione di pre biting che nel caso del tiger nut non deve essere lunghissima basta in genere partire un paio di settimane prima di iniziare le pescate sul terminale ovviamente innescheremo a seconda della condizione del fondale la singola tiger nut di grossa dimensione oppure il combo con la tiger nut finta pop up e via discorrendo a seconda che ci serva un innesco più o meno bilanciato ricordate sempre di sbucciare un po le grosse tiger nut che utilizzate come innesco o di tagliare loro le estremità prima ancora della cottura in modo che siano un po più reattive una volta portate in pesca grazie 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 grazie